È stato un piacere oggi essere qui e aver consegnato alle nuove divise la nazionale sicurezza sul lavoro come capitano della nazionale parlamentare per noi è un piacere rinnovare questa amicizia che spero presto in campo possiamo riprendere le nostre sfide, tutto con la sicurezza sul lavoro. Grazie a tutti.